Ancora storditi dall'incanto che trasmette la loggia di Galatea e con un lieve capogiro causato da un principio di artrosi cervicale, prezzo da pagare per essere stati troppo a lungo con il naso in aria, a rimirare il soffitto, entriamo nella loggia detta di amore psiche, quella che originariamente era l'ingresso principale e lì in un nuovo turbinio di emozioni restiamo a bocca aperta ad osservare incorniciati da un pergolato che diventerà presto un modello da imitare, opera di Giovanni Nanni da Udine, grondante di frutta e ortaggi di ogni genere, compresi quelli provenienti dal nuovo mondo riscoperto di recente, gli affreschi dipinti dagli allievi di Raffaello, principalmente Giulio Romano, Giovanni Francesco Penni Fiorentino e Raffaellino del Colle da Sansepolcro e dallo stesso Raffaello. Siamo intorno al 1518, archiviata la pratica Margherita Gozaga, di cui si è già accennato nella puntata precedente e che si è detto per dovere di cronaca morirà Zitella, l'ormai maturo Agostino Chigi ripiega sulla giovanamante Francesca Ordeaschi, veneziana, forse la Dorotea dipinta da Sebastiano del Piombo, donna di umili origini che provoca scandola a Roma e forte disappunto tra i parenti di Agostino, soprattutto quando comincia a sfornargli figli. Ed è proprio in occasione del matrimonio, che avverrà il 28 agosto del 1519, giorno di Sant'Agostino, che il Chigi si fa dare una rinfrescata alla loggia, chiamando Raffaello e bottega. La storia, che viene immortalata e che contiene i cegni autobiografici del committente e qualche licenza artistica, è la favola di amore e psiche, tratta dalle metamorfosi o asinodoro di Apuleio, che oggi sarebbe un extracomunitario, ma nel secondo secolo era considerata un famoso retore, scrittore raffinato, nonché filosofo neoplatonico. La favola, raccontata da una vecchietta un po' strana e ubriacuna, cuoca e guardiana tutto fare di una masnata di briganti per placare il pianto di una fanciulla, rapita a scopo di riscatto, narra di una giovane bellissima, figlia di un re, la cui avvenenza attirava folle da tutte le parti, tanto che ben presto fu paragonata alla Dea Venere, con conseguente attacco di bile della Dea, che, chiamato suo figlio Eros, o Cupido, o Amore, i termini indicano tutti la stessa persona, un tipetto un po' debociato che lanciava le sue frecce a dritte a manca, suscitando spesso forti crisi coniugali, gli indica la fanciulla e gli ordina di farla innamorare dell'essere più abietto che vive nella terra. Intanto passava il tempo e la fanciulla, sempre molto ammirata, stava facendo, come si dice dalle nostre parti, la fine della sora Camilla, che tutti la vogliono ma nessuno se la piglia, e il padre preoccupato, interrogato l'oracolo, ne riceve un risponso ambiguo e verosimilmente funesto. Un mostro alato, temuto anche dagli dei, sarà il suo futuro genero. Seguendo le indicazioni del risponso, la giovane viene abbandonata su una rupe, ma lì il vento, lo zefiro, la raccoglie e la trasporta in una reggia stupenda, dove di notte si presenta un essere di cui diventa la sposa. Quel mostro alato, altri non è che Eros, che si è innamorato di Psiche, questo è il nome della ragazza, peraltro ricambiato, ma si dovrà mantenere un patto. Mai la giovane dovrà scoprire l'identità dello sposo, pena la fine di tutto. Eros si rivolge alle tre grazie perché proteggano Psiche, episodio non presente in Apuleio, ma si sa, tre belle ragazze sono sempre il benvenuto. Passa il tempo e Psiche sente la nostalgia delle due sorelle e strappa l'assenso del marito a rivederle. Le signore, accompagnate sempre da Zefiro, non appena vedono quel ben di Dio, il lusso insomma in cui viveva la sorella, è inevitabile, vengono prese da un accesso di invidia incontenibile che porta la rovina alla povera Psiche. La convincono che il mostro, prima o dopo, se la sorpresa quando scopre che il mostro è il bellissimo Cupido, anzi, siccome è anche un po' in branatella, si verisce con una freccia del marito, si fa prendere dal desiderio, dimenticandosi che l'arte amatoria non va praticata tenendo in mano una lampada d'olio bollente, tanto che una goccia cade sulla spalla del Dio con conseguente putiferio. Il Dio alato fugge via, temendo anche di essere scoperto dalla Madre Venere, fatto che avviene puntualmente. Giunti a questo punto, vi starete domandando come mai mancano le immagini di ciò che si sta descrivendo. La risposta potrebbe essere che la prematura morte di Raffaello e del committente Chigi abbiano impedito il completamento della favola per quanto riguarda le avventure terrestri che si sarebbe dovuta svolgere sulle pareti laterali e che invece presentano delle finte nicchie. Peccato. Venere, piuttosto incollerita, vuole vendicarsi di Psiche e chiede aiuto alle idee Cerere e Giunone per ritrovarla, ma le due forze, per paura di Cupido che sappiamo lanciava i suoi imbarazzanti strali amorosi senza alcun rispetto, si defilano e qui, nell'affresco, si possono cogliere i loro gesti eloquenti. Venere non demorde, monta sul cocchio d'oro che il povero Vulcano, il marito ufficiale, aveva scesellato per lei come dono di nozze e si reca dal capo, il grande Giove, e qui il volto di Venere, muta espressione, diventa quasi umile nel richiedere di potersi servire dell'aiuto di Mercurio nella ricerca di Psiche. Giove dà il proprio assenso, anche se con una faccia poco convinta, mentre, cosa pensa l'aquila schiacciata sotto la gamba del Dio, lo lascia alla vostra fantasia. Mercurio, il Dio dei mercanti e dei furfanti, a volte le due attività coincidono, batte il territorio, promettendo una ricompensa a chi farà ritrovare la giovane. Sette piacevoli baci da Venere in persona, e uno di gran lunga dolce come il miele, blandientis ad pulsu lingue. Chiaro il concetto, no? A tale promessa si eccitano gli animi degli uomini, e Psiche capisce che non ha più scampo, e diciamo si costituisce. Tralasciando le prepotenze che subisce la povera fanciulla d'opera della vendicativa Venere, e tre delle quattro prove a cui è costretta e che supera per l'intervento di un nugolo di formichine ai consigli di una canna, pratica ancora diffusa nei tempi moderni, nonché grazie all'aquila di Giove che restituisce un favore accupito, la nostra ragazza viene mandata nell'Ade a prendere un unguento di bellezza da Proserpina, che ottiene seguendo i consigli di una torre parlante, ma spinta dalla curiosità, questa curiosità che è sempre uno dei fili conduttori del libro di Apoleio, apre il vesetto da cui fuoriesce un mortale sopore, e stavolta a salvarla deve intervenire Cupido in persona. Finalmente Psiche consegna il vesetto a Venere, che stavolta sembra rendersi alzando le braccia. Nel frattempo Cupido decide anche lui di andare a parlare con il capo, per porre termine a questa situazione. Giove suggella la sua approvazione schioccando un bacio sulle labbra di Eros, mentre l'aquila, che tiene pericolosamente nel becco le saette fiammeggianti di Giove, comincia a chiedersi se è proprio un privilegio essere l'uccello prediletto dal signore dell'Olimpo. Finalmente Mercurio trasporta Psiche sull'Olimpo, scena assente in Apoleio, ma che potrebbe identificare i due sposi, lui il mercante ricco che trasporta la sposa di condizioni umile a un nuovo status sociale più elevato, anche per la presenza del pavone, simbolo dell'unione matrimoniale. Ai lati dei pennacchi gli amorini, a testimonianza che l'amore vince su tutto, sottraggono con allegra sfaccia d'aggine le potenti armi degli dèi. A destra le sette di Giove, a sinistra arco e frecce di Cupido, il tridente di Nettuno, il forcone di Plutone, mentre un amorino tiene a bada Cerbero. E a seguire la spada e lo scudo di Marte, e l'arco e la faretra di Apollo, con la presenza del grifone collegato al culto del sole, le insegne di Mercurio e il tralcio di vite di Bacco, il flauto di Pan e lo scudo di Minerva, le armi di un dio sconosciuto, quelle di Ercole con la presenza di un'arpia e quelle di Vulcano dove si affaccia un coccodrillo, e infine un amorino che guida un leone e un cavallo marino. Sul soffitto gli affreschi che simulano due arazzi. Il primo è il concilio degli dèi, dove a destra Cupido presenta Psiche, cercando di convincere Giove ad accoglierla nell'Olimpo, mentre a sinistra si vede Mercurio che offre la coppa dell'immortalità a Psiche. Il secondo è il banchetto di nozze, dove in un clima più rilassato, dovuto all'accurata scelta di vini da parte di Dioniso stesso, vediamo le tre grazie che svuotano su Psiche un flagone di magico profumo balsamico e gli dèi che si colpeggiano affettuosamente, mentre un'altra, abbandonata dalle scarpe da cerimonia come al solito un po' strette, rimane con una sola ciabattina, a scambiare due chiacchiere con Ercole. L'ultima annotazione riguarda Venere, che accenna un passo di danza accompagnata dalle note di Apollo e Pan, evidentemente disapprovato da un vulcano geloso. Non si può tacere sullo straordinario connubio tra committente e artista, che libera Raffaello stimolandolo nella ricerca di uno stile rinnovato, più carnale, più laico, ma tuttavia che frena comunque l'aperta insolenza del chigi, con il celare e la totale nudità femminile, ora con un velo, ora con un cuscino o una nuvoletta. Tuttavia l'allegra licenziosità rimane seminascosta nel pergolato e si può scoprire seguendo le indicazioni di Mercurio. Se si aggrezza cafonaggine di un arricchito o colto riferimento alla classicità, lo lasciamo dibattere agli esperti. Per noi è tutto, o quasi tutto. Si continua nella prossima puntata e come al solito un grande saluto da VidLab. Grazie.